buongiorno respiro ancora come al solito e questa mattina ho incontrato una persona mentre scendevo mi ha chiesto come sta dottore benissimo e se ferma un attimo ma guarda sarà alla meta benissimo ragazzi mi dispiace per voi ma sto benissimo quindi guardate calma perché al funerale c'è ancora tempo vero parisi c'è ancora tempo allora veniamo noi io ho pubblicato su facebook un articolo che avevo scritto molti anni fa e l'avevo scritto sulle case di riposo dei sacerdoti ma siccome c'era il conflitto di interessi e la mia consorte riforniva tutte queste case di riposo mia moglie mi pose il vetto mi dice no grazie di dio per l'amore della madonna è stata oltre la concrezione ma siccome adesso sono ridotti a quisquiglie mi possono permettere anche il lusso di pubblicare quello che ho pensato molti anni fa e l'articolo finisce forse chi è su facebook l'avrà letto ma per chi non è andato su facebook vi dico come ho scritto questo articolo ho immaginato di incontrare un signore la mattina mentre uscivo di casa e questo signore mi chiese dice ma lei è qui di arco si dico sono qui di arco e dice posso chiedere alcune cose ma io perbaccolo allora ho descritto questo signore come un signore con i capelli lunghi gli occhi celesti età media un viso piuttosto metafisico romantico vestito in maniera moderna come vestono i giovani oggi con una tasca di quelle tasche che hanno attraverso i jeans rotti e un par di scarpe da ginnastica e dice guarda dice io vorrei se lei è cortese che mi accompagnasse in giro per arco per vedere alcune cose mi dica no mi interesserebbe vedere quelle che sono le case dei religiosi di arco si si dico ma scusi lei chi è? no no il cielo si perde non è portato allora io in questo racconto racconto che questo signore l'ha portato in giro gli ho fatto vedere la casa dei commognani ho fatto vedere la sacra famiglia gli ho fatto vedere le missioni africane gli ho fatto vedere il padre monte gli ho fatto vedere i servi di maria eccetera 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 ma prima di partire nella piazza questa signora mi chiede dice ma scusi dice ma qui è stato fatto anche un oratorio qui come fa a saperlo? no no è capitato di leggere dico ma vedi qui c'è la canonica la vede là è un palazzone grande dove è dentro solamente il paroco lì avrebbero potuto fare tranquillamente la canonica trasformando cioè la canonica scusateci lì avrebbero potuto fare tranquillamente l'oratorio per quelle che erano le parti di intrattenimento con il Venford all'accesa e che era lì a passo quindi sarebbe stato più pratico per quelle che erano le attività sportive dico c'era padre Monti che c'è tuttora anche dico sei in una situazione un po' particolare perché sembra che questi padri concessionisti come si chiama? qui dico padri concessionisti ah sì 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 hai ragione padri concessionisti dico stanno fallendo dico probabilmente va in vendita poi l'ho caricato in macchina e siamo andati a vedere sul posto questi tipi di coro ci siamo fermati di qua di là e siamo arrivati a Bolognano a Bolognano ci siamo fermati davanti al Sacro Cuore e lì sempre nel mio racconto mi ha pregato di poter andare dentro lui solo a vedere il Sacro Cuore non l'ho capito perché voglio andare dentro da solo è venuto fuori ma per tutto il periodo in cui è stato con me racconto racconto ripeto immaginario questo signore continuava a scuotere la testa come mill'altro giorno con il dottor Ottobre continuava a scuotere la testa e faceva dei respiri profondi come per dire madonna mia che roba e non capivo chi sarà e insisto ma scusi mi viene così lei non si perde le dirò le dirò e quando siamo lì al Sacro Cuore io dico io dico ma vede dico signor ma vediamo dopo dico illustre ignoto allora mi chiami illustre ignoto ma mi dica io che avrei agito in questa maniera siccome tu ti crede di solito in quel signore Gesù che lei fa l'igname che il padre eterno la manda a zo perché siccome nessuno di noi pensava chi era questo padre eterno per farmi conoscere mi trasformo in uomo vengo giù e così mi conoscono meglio mi palpano mi vedono e la cosa è più comprensibile ma era dico io insomma mi sembrava che fu una persona semplice dopo tutta la famiglia di fare gli armi e non mi pare che abbia trasferito grandi bagni con un grande lusso come i affacchi di Sacro Cuore e che non l'abbia neanche chiesto che era un sparpagliamento di tutti gli ordini religiosi mi dica mi dica no dico e vada mi gocchino elenco se che interessa posso cominciare cominci cominci agostiniani barnabiti benedettini camigliani carmelitani cistercensi clarisse deognani dominicani dominicani filippini francescani esode sto passo cerchi fermi dice guardi stia tranquillo fermo là conosco conosco ma dico si occupa di queste cose lei no non sono un giornalista si mette l'animo in pace ma sempre con un'aria molto non riuscivo a intuire questo soggetto poi a un certo momento mi dice ma scusi ho visto qua c'ha ragione ha ragione potrebbero stare tutti qua questo sparpagliamento dice ma ne parliamo dopo mi dice ma mi dica una cosa esiste anche una costruzione da poco tempo la via pacisti la via pacisti che guardi che è un argomento terribile perché è terribile ma è un argomento siccome tutti oggi pensano alle semplificazioni che Gesù l'era uno solo le chiese le vuote la gente l'occaso e questi qua gli fanno la via pacisti sarà calmaino un gran professore ma ci sono un'infinità di case dei sacerdoti vuote tipo villa tabola ah dice villa tabola si dice ma in quella villa tabola c'è dentro solo una persona vero ma dico scusi come fa a sapere no ma dico si dico c'è dentro una signora dico che non so dicono che è nascuola io non la conosco la conosco ma non ho che abbia parlato molto mi sembra un po' dice guardi se mi porta a via paci vorrei vederla questa via paci accompagno questo signore abbiamo sempre una cosa immaginare chiaro e io ho la via paci smò dice no desidererei andare da solo se lei non mi accompagna se non mi dispiace parma così aspetto e quando esce dalla via paci proprio veramente mentre prima scuoteva la testa proprio la scuoteva in modo proprio incredibile è arrivato in macchina dico ha visto ma dico scuote la testa alzo guardi la siamo pari da lei la siamo pari da la monta la monta e monta in macchina e io insisto ma senta mi devi una curiosità ma chi è lei ma dice senta guardi glielo dico mi porti in piazza della chiesa e dopo glielo dico arriviamo in piazza molto in macchina vede la tavola veniamo su e quando siamo nella piazza di Arco scendiamo e allora dico senta adesso dico me ne ha ben tutto lo portate qui lo portate là adesso mi dice che non si guardi prima le voglio dire una cosa che sono perfettamente d'accordo con lei che io non volevo questo genere di cose io dice guardi volevo una chiesa unita volevo che questa gente si parlasse tra di loro e non che fosse le interpretazioni del certo scritto secondo uno secondo l'altro uno fa le preghiere le notti l'altro le fa del giorno non mangia i fasoli l'altro non mangia i fagioli ma si dice lo facevo un esempio così per dire uno mangia una cosa uno mangia l'altro i fratti di un tipo che con la barba senza barba dice guardi figlio mio io ho fatto ho messo insieme tutta una struttura ma non certo non volevo una struttura di questo genere perché i miei apostoli ci sono stati istruiti diversamente quando ho sentito i miei apostoli ho detto ma scusi abbia pazienza ma lei chi è? io sono Gesù io sono rimasto di stucco e lui è andato in chiesa allora questo racconto evidentemente è un racconto immaginario beh ma su facebook se volete proprio credere lei che sta qualcuno dice ma l'ha incontrato su Sergio lei Gesù dice ma ma che presunzione ha lei di incontrare Gesù insomma ragazzi dico chi che gli dà i numeri allora l'ho riferito a mia moglie dice ma cosa vai a scrivere quegli articoli dice che evidentemente gli ha detto ma che lì è impartito e si parla con Gesù ma non era questo lo scopo lo scopo era vero perché 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 vedete il sottoscritto nel suo percorso nel suo percorso ha sempre avuto una particolare attenzione per quel falegname della Galilea quel Gesù eccetera e ultimamente ho letto un libro che si chiama Il Regno scritto da un francese che parla di San Paolo e di Luca allora noi non siamo molto istruiti perché non è che il mondo dei cattolici legga queste cose sarà ma credo che sia per pochi ed è stata una rivelazione ed è stata una rivelazione perché questa gente San Paolo che è quello che ha dato le basi a questo nostro cattolicesimo non era come il signor Sandri che è quello che amministra le proprietà della Chiesa a Trento che non è un prete ma le peso del prete voglio dire non era roba dal banco che ho già detto in altre trasmissioni dalla banca del Trento e Bolzano o dell'ISI o di tutte quelle congregazioni che gestiscono il patrimonio della Chiesa e quando ho detto in contatto a Gesù è stato per rafforzare il discorso perché non è pensabile non è pensabile non è pensabile che abbiano fatto un oratorio e i padri con no concessionisti i padri concessionisti i padri monti con il campo da calcio il campo da basket con tutto quel che è no bisogna fare il campo l'oratorio io avrei messo a porto la canonica e i padri monti mettevano a disposizione quello che hanno sì o no allora quando ho detto Gesù è stato per rafforzarlo perché vedete nella mia vita ho cercato di seguire quel falegname che a me piace pensare siccome amo il legno quindi mi è sempre piaciuto pensare a quel falegname a me non è mai piaciuta la storia della Vergine Maria che è stata concepita per opera dello spirito santo permettemi tutte quelle robe lì che mi vado a me ben zollato dalle ginocce è più bello pensare a una donna che è stata concepita da un rapporto sessuale sacro perché il rapporto sessuale ragazzi le chi in questo mondo chi di pornografia che le hanno fatto pensare ma il porto l'atto sessuale è la prosecuzione della specie sai sta storia hanno fatto della pornografia una roba schifosa ed indecente anche se al limite qualche volta confesso non è che mi sia dispiaciuto vederla ma ma e anche praticarla magari ma va detta una cosa questo uomo che è nato in una stalla che ha amato la semplicità che è sempre stato dalla parte degli oppressi il sindacato degli oppressi non la CGL la CIS stavo per dire un termine che ad opera sgarbi che incomincia per C no no è stato un vero sindacalista del povero ma un povero solo nel fatto economico ma anche del povero di spirito di quello che non ha la capacità di farsi intendere di quello che è segregato perché 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 è un povero di spirito magari il ganca ha due soldi ma non è capace ed è oppresso trascurato messo da parte ecco allora considerandolo Dio mi è andato anche bene però l'ho anche considerato onestamente come un grande filosofo mi è andato bene in tutte e due le versioni io vado avanti a prepararvi un posto poi verrò a prendervi io sono la via la verità e la vita un ricco l'edificio che l'entra dentro è in cielo l'epufazzile quella cruna dell'occhio la storia dell'occhio tutti questi io vi amo amatevi come io vi amate voi vogliatevi bene esodi questo passo sono sempre stati dei non regolamenti no delle storie che mi hanno sempre molto affascinato e che mi hanno direi condizionato ma insomma hanno un po' condizionato la mia vita ma ripeto me l'ha condizionata sia che l'avessi considerato Dio sia che l'avessi considerato come un grande filosofo o come un grande uomo perché vedete il pensiero di una persona di un fanegname che per dire quello che pensa ai tempi di erode dei romani non è mica come adesso che ti puoi dire che mattarei la lemmona e che Renzi il ponnare a farsi eccetera 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 allora ti battevi la testa difatti il lanca il crocifisso allora mi è sempre piaciuta questa duplice mia interpretazione perché se l'era Gesù me ne avevo e quando parlavo con gli atti tutti questi che mi distruggevano l'idea di sto Dio che il mio Zodo è la Madonna che le Vergine che cosa so che la sia vera questo passo però li piattiva sempre la figura del filosofo dell'uomo che aveva portato nel mondo un nuovo modo di pensare cioè l'amore che fino allora non era mai stato considerato in una maniera così forte e così importante allora la mia raffigurazione di Gesù non è perché Arco adesso e Venia Maggiugorio come se ciava che veniva tutti ad Arco per parlarmi perché ho visto Gesù perché sarei bella roba sarei bella propaganda e sarei certamente sovrezionato da Sandri quel che amministra la curia però 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 io credo che Gesù non volesse un'organizzazione della chiesa di questo tipo se voi leggete San Paolo ecco l'altro Luca lì che era un medico tra l'altro no che era la cresima no che era la prima comunione no che era l'estrema unzione no che era tutto quell'apparato che è stato no che era la confessione tutte ste robe le state inserite nel tempo ma dicevo l'altro giorno parlando con Don Walter poi oggi finisco perché a me par che siamo un po' lunghetti oggi però è un argomento che mi preme ho detto ma senta Don Walter il nuovo parroco di Arco ma siete in 40 preti giovani ma perché non fate una bella rivoluzione orco di quel poporco e non vi mettete tutti insieme e fate cambiare le cose andate dal vescovo che dice vada noi Sandri non ne va bene che sente dentro nella banca di Antetano non mi va bene l'ISA non mi va bene e altre organizzazioni del genere non ci vanno bene perché forse questo ritorno alla semplicità questa eliminazione di tutte ste case dove che dentro tutti questi preti vecchi bauchi che non so se crederà ancora o no non credo che fosse quella che era la volontà di Gesù sia visto come uomo che visto come Dio alla prossima